il futuro di bitcoin dipende esattamente da questo indicatore bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi torniamo a parlare di bitcoin torniamo a guardare il grafico del re delle criptovalute perché volevo farvi vedere un'indicazione che dobbiamo tenere sott'occhio per i prossimi mesi, le prossime settimane un'indicazione semplice, basilare ragazzi ma che ci dà anche un po' un'informazione importantissima sto parlando di una ripresa del trend rialzista di bitcoin di medio-lungo periodo trend che in questo momento dal 2018 è in barra di congestione laterale quindi bitcoin oscilla ma non riesce a salire al di sopra di alcuni livelli 10.500 nel breve, 13.000 nel medio periodo e poi il super massimo storico intorno ai 20.000 dollari di bitcoin quello fatto nel dicembre del 2017 c'è un indicatore che ci può dare un'informazione anticipatoria su quello che è l'atteggiamento di questo mercato e su cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane oggi andiamo a guardare questo indicatore andiamo a fare le nostre considerazioni e vi dirò anche come dobbiamo utilizzarlo perché c'è una chicca, c'è un trucchetto per capire quando questo indicatore ci dà un'informazione attendibile e quando no prima di passare sui grafici come sempre iscrivetevi ragazzi se ancora non l'avete fatto fatemi sapere quello che pensate nei commenti e su quei pollici datemi una mano con questo algoritmo youtube fatemi sapere se vi piace questo tipo di contenuto tra le altre cose ragazzi poi mercoledì 10 giugno sarò in live sul canale di Coinsquare insieme a Filippo e Tiziano intorno alle 9.30 ragazzi parleremo un po' del punto della situazione sui mercati old e anche la relazione con bitcoin parleremo del Nasdaq faremo una live insieme l'ultima l'avevamo fatta a marzo ragazzi quindi non mancate il 10 giugno alle 21.30 oggi voglio parlarvi solo del media mobile questa qui a 200 periodi la media mobile a 200 periodi è uno degli indicatori istituzionali più utilizzati nella storia degli investimenti nella storia del trading mondiale da tantissimi anni ragazzi la media a 200 periodi dà un'indicazione del trend di uno strumento finanziario se uno strumento finanziario è al di sopra della media a 200 periodi viene considerato in trend rialzista se al di sotto della media a 200 periodi viene considerato in trend ribassista in questo caso ragazzi faccio riferimento alla media a 200 periodi su time frame daily non andate a utilizzarla su altri time frame perché non ha nessun senso in quanto in questo caso gli istituzionali ragazzi quello che guardano è il prezzo di uno strumento finanziario su un anno di tempo che 200 periodi rappresenta più o meno un anno ragazzi più o meno un anno dei mercati finanziari old quelli che hanno la chiusura sabato e domenica e festivi quindi non è rappresentativo della media annuale di bitcoin però viene utilizzato anche dagli istituzionali ed è rappresentativo della media annuale di bitcoin futures quelli quotati sul CME quindi al momento ragazzi non facciamo cose strane andiamo a considerare la media mobile a 200 periodi è vero che la media mobile a 200 periodi ci dà l'indicazione sul trend di lungo periodo di uno strumento ma ha un difetto ha un difetto che spesso viene estremamente tralasciato invece non è da tralasciare perché è proprio quello il problema serio ragazzi cioè se il mercato è in barra di congestione cosa significa? significa che fa laterale 1, 2 1, 2 non si muove ragazzi fa delle onde quando uno strumento finanziario è in barra di congestione oscilla intorno alla sua media a 200 periodi quindi anche quando è sopra ragazzi non significa che è in trend rialzista bensì significa che è in eccesso di rialzo perché se non ha trend quello strumento finanziario quando è sopra la media mobile a 200 periodi vuol dire che probabilmente tra un po' ritornerà a scendere sotto questo è praticamente l'opposto come facciamo a capire qual è la differenza come facciamo ad avere un trucchetto un'idea generale che ci può dare un'indicazione e dire bene lo strumento è sopra la media a 200 periodi probabilmente avrà trend rialzista nel medio e lungo periodo oppure siamo solo in trend laterale andiamo a vedere questa cosa l'andamento di bitcoin da questo punto qui ragazzi vedete da quando ha rotto la sua media a 200 periodi ha iniziato una lateralità ragazzi è una cosa abbastanza evidente ve lo faccio vedere da qui in poi il mercato in sostanza è un laterale ribassista è stato laterale ribassista vedete? fino a qui benissimo da qui in poi che è poi quello che ci interessa non si capisce cosa sta succedendo non si capisce se siamo ancora in questa fase qui e quindi probabilmente andremo a fare un'altra gamba ribassista oppure questa break della media mobile questo che vedete qui della media mobile a 200 periodi è il vero break cioè quello che ci dà l'indicazione per i futuri per i futuri due anni ragazzi ok quindi questo break è lo stesso di questo cioè un fake che poi ritornerà giù vedete oppure è il break giusto che darà un segnale di lungo periodo come facciamo a capirlo? vi faccio intanto vedere una similitudine che è presente su bitcoin nel 2015 per farvi capire come ci assomiglia in questo momento bitcoin quella fase che era nel 2015 ragazzi ed è questa qui guardate come è simile questa fase allora intanto quando bitcoin nel 2014 rompe vedete qui 2014 marzo rompe la sua media 200 periodi era ovviamente estremamente volatile ragazzi perché già è volatile adesso figuratevi quando valeva 300 dollari guardate cosa fa un trend totalmente ribassista fino a quando non rompe nuovamente la media a 200 periodi vedete la rottura della media a 200 periodi e poi il boom rientro nuovamente sotto vi dice qualcosa questo grafico ragazzi è identico lo stesso identico atteggiamento che ha avuto nel mese di marzo scorso quindi il famoso giorno quando ha fatto quella super down se lo paragoniamo tra le altre cose vedete questa è una giornata da meno 25 punti con un eccesso tra l'altro di prezzo ancora maggiore perché vedete solo nella giornata in questione bitcoin fa meno 38 punti e poi chiude a meno 25 ragazzi sembra un déjà vu sembra esattamente un replay di quello che è successo a marzo ma qui siamo nel 2015 qui siamo in un periodo completamente diverso ma allora questo break vedete della media 200 periodi indica un fake break quindi indica che qui il mercato è il laterale perché questo ha una valenza differente ragazzi benissimo introduciamo il nostro trucco nel momento in cui un mercato sta al di sopra di questa media 200 periodi per tanto tempo cioè il tempo ragazzi che è fondamentale in questo caso da valutare quando sta sopra la media 200 periodi per tanto tempo molto di più di quello che dovrebbe la probabilità che siamo entrati in un trend di medio lungo periodo rialzista è maggiore aumenta col passare del tempo ragazzi vi faccio anche vedere da giugno 2015 vedete ad agosto 2015 ragazzi qui sta praticamente bitcoin sopra la media 200 periodi per circa 50 giorni poi torna sotto in pratica ok ora quando possiamo dire che questo tempo è sufficiente a darci un'indicazione di eccesso tempistico e quindi diciamo siamo in un trend rialzista quando superiamo i due mesi allora se io qui vado avanti e proseguo ragazzi vedete quello che succede allora intanto abbiamo due indicazioni fondamentali che questo tipo di break indicava un nuovo trend di lungo periodo rialzista quindi un corretto break della media 200 periodi ma abbiamo intanto il break dei massimi e questo è un'indicazione palese insomma molto chiara ma poi ragazzi abbiamo una questione temporale vedete quando siamo andati al di sopra di 50-60 giorni siamo probabilmente in un nuovo trend rialzista è vero che poi bitcoin vedete qui toccò i massimi precedenti quindi in realtà era ancora in bara di congestione vedete però qui era passato veramente tanto tempo passata questo periodo il mercato può essere considerato in trend rialzista perché? perché la media a 200 periodi inizierà a virare ragazzi inizierà a girare, a salire quindi il mercato avrà un trend rialzista dove siamo oggi? guardate un po' quello che sta succedendo oggi intanto vi elimino questa fase del triangolo dove siamo oggi ragazzi? siamo sopra la media a 200 periodi da circa 40 giorni dobbiamo arrivare ancora a giugno a fine giugno scusate 2020 quindi semplicemente fine mese ragazzi questo cosa significa? significa che se bitcoin continuerà a stare al di sopra della media anche a luglio ed agosto probabilmente inizierà una fase di trend rialzista di medio periodo con lo scoglio evidente ragazzi di 10.500 un superamento di 10.500 con il tempo che vi ho detto di time speso sopra la media a 200 periodi indicherà che questo break della media a 200 periodi ragazzi non è più un break di lateralità come è stato qui vedete qui ma è un break di cambio trend che poi dovesse cambiare fra un anno quello è un altro discorso però con questo trucco ragazzi noi riusciamo a capire effettivamente se bitcoin in questo momento può essere tradato al rialzo per il medio lungo periodo con un'aspettativa di medio lungo periodo al di là di quello che pensiamo qui stiamo guardando dati da trend ragazzi intanto vi faccio vedere come effettivamente sembra dipinto identico al 2015 vedete anche questo ribasso di marzo lì era agosto ma è veramente la stessa identica cosa siccome tra le altre cose arriviamo alla fine del video così vi dico anche nel breve quello che sta succedendo siccome siamo probabilmente in una fase di scadenza ciclica ragazzi che però bitcoin stenta a farla ribasso ragazzi io quello che noto in questo momento è una fase di barra di congestione estremamente stretta quindi questo prelude probabilmente a uno scoppio di volatilità tra pochissimo però in linea di massima vedete abbiamo un bitcoin che non vuole scendere ma che dovrebbe andare a chiudermi la M famosa di Mauro cioè la M ciclica ragazzi scherzo chiaramente la dovrebbe andare a chiudere intorno a metà mese di giugno ora chiudendo il video tiriamo giù le nostre conclusioni se bitcoin chiuderà questo ciclo mensile che sta facendo e dovrebbe chiudere a momenti veramente ragazzi in barra di congestione come sta facendo adesso oppure con un leggero ribasso ragazzi non importante quindi un ribasso che potrebbe magari andare intorno aria 9000-8008 più o meno quell'aria lì a questo punto ragazzi cioè senza andare a intaccare la famosa media a 200 periodi che in questo momento vi ricordo passa intorno agli 8.130 dollari allora se dovesse fare questa chiusura leggera chiamiamola così o in barra di congestione proprio così sta facendo passare il tempo e poi riparte oppure semplicemente una leggerissima chiusura per poi ripartire a questo punto attenzione proprio attenzione al break di una resistenza di questa resistenza qui di 10.5 perché ragazzi indicherebbe perfettamente quello che vi ho detto in questo video quindi per il futuro di bitcoin dobbiamo attendere questa fase di chiusura vedere la eventuale ripresa se riuscirà a rompere i 10.5 soprattutto non deve andare al di sotto della sua media a 200 periodi almeno per i prossimi 20 giorni un mesetto ragazzi sarebbe anche meglio deve starci sopra e deve chiudere questo ciclo e ripartire aggredendo questa resistenza da un punto di vista anche di volatilità io ho delle indicazioni positive per i prossimi giorni dovrebbe aumentare la volatilità ma ne parleremo in un altro video cosa ne pensate voi di questa soluzione ragazzi dovesse avvenire veramente il break di questo livello di resistenza ne vedremo delle belle ragazzi io sarei il primo a essere entusiasta di questa soluzione fatemi sapere quello che pensate voi e come vi state muovendo e poi vi dirò nel prossimo video anche quali sono i livelli di buy area per quanto riguarda questa fase da prendere in considerazione per il medio lungo periodo ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti